Incantation ragazzi, io ve lo consiglio a prescindere, tutti i film in realtà che dovrebbero far paura, non fanno paura mai se voi li guardate in salotto, in camera, con la luce accesa, qualunque distrazione, insomma voi siete, io non amo usare questo termine, ma in questo caso funziona benissimo, siete in una cazzo di comfort zone pazzesca. Siete a casa vostra, siete dentro voi stessi, perché la vostra casa vi rappresenta, è l'espressione di voi stessi, la costruite come volete, la bellite, gli mettete la luce come la volete, quindi è proprio la vostra proiezione. Più comfort zone della vostra casa non esiste un cazzo, allora come si fa ad aver paura nella comfort zone con la vostra bella casetta, le luci tutte accese, il cellulare che fa plin plin, che vibra, il frigorifero che ogni tanto si va si piglia un po' di gelato, eccetera eccetera. Non si può, non si può aver paura, è difficile aver paura di un film, quindi è importante con un film come Incantation spegnere le notifiche del cellulare, magari appoggiarlo lontano in modo che l'istinto a prenderlo casca, insomma decada. E' importante avere le luci molto basse per dimenticarsi di essere a casa propria, ed è importante non distrarsi mai. Ed è un film che secondo me se vi fate un pochino avvolgere fa un pochino paura all'inizio, ci sono delle scene girate sapientemente che sono abbastanza inquietantelle, che si rifanno tantissimo al cinema, fantasmi giapponesi, eccetera, che sapete gli orientali sono comunque bravi a fare questi film di fantasmi in questa maniera, no? E' un film appunto taiwanese che è stato campione di incassi a Taiwan, ora vi dico due o tre cose. E' un film del 2022, un po' si capisce già dal trailer che, vabbè, ovviamente è un horror soprannaturale, fa un footage molto particolare, diretto da Kevin Ko, che lo ha co-sceneggiato insieme a Chen Wei-Chang. Sono piuttosto agli inizi tutti e due, si ha registrato lo sceneggiatore, insomma non hanno tantissimi film alle spalle. Mi sono preso dei pezzettini di informazioni perché erano abbastanza lunghe e quindi non volevo impararmi la memoria, per cui ve le leggo. Il film è ispirato all'incidente del distretto Busan a Kaohsiung nel 2005. Comunque, in questo incidente una famiglia di sei persone aveva affermato di essere posseduta da una divinità religiosa, insomma legata a una religione popolare cinese. Praticamente si fu una sorta di isteria di massa, iniziarono a bruciarsi a vicenda con l'incenso, si picchiavano i bastoni con oggetti, tavolette spirituali. Insomma, non lo so, era come se avessero fatto un rito e fossero mezzi impazziti tutti, si tirarono addosso feci, urine, insomma fecero delle cose un po' da pazzoidi. E alla fine individuarono, diciamo, puntarono la figlia, insomma, era una famiglia che aveva fatto questo qua e individuarono nella figlia probabilmente qualcosa di malvagio e la picchiarono fino a ucciderla. Poi, ovviamente, i restanti membri sono stati accusati della morte della bambina, della ragazza, insomma, ed è stato considerato un caso di isteria di massa, insomma, non si è spiegato bene che cazzo è successo. E' abbastanza inquietante, no, come raccontata questa vicenda, sembra fondamentalmente è ispirato a un caso reale, cioè un caso reale di follia, di isteria di massa, legata alla religione, legata al fanatismo religioso. Non si sa, magari, se avevano nei loro rituali preso delle droghe, chiedevano a farti un po' di impazzire, eccetera. Ma di fatto che effettivamente questo è un film ispirato a un fatto reale. Ovviamente gli aspetti soprannaturali sono del tutto inventati, chiaramente, perché non esiste il soprannaturale, sono cazzate. Il finale del trailer, secondo me, è un richiamo a The Witch Project. Ma, bravissimo, bravissimo, dopo ci arriviamo. Poi parliamo un attimo degli aspetti, come avete visto c'è tantissima cultura cinese, religione, simboli, tradizione dentro, si vede già dal trailer, vari simboli, varie cose. Per fugare ogni dubbio vi dico che Kevin Coe ha spiegato che il personaggio principale, che è una divinità, che non vi voglio sbagliare troppo, è stata inventata. Certi simboli, certi canti, appunto la religione antica che viene mostrata, è stata inventata. Quindi, in realtà è tutto inventato, ma è fatto veramente molto bene e hai l'impressione veramente che sia reale, perché è fatto veramente molto bene. Ed è fatto bene, perché secondo me, perché prende tantissimo, prende tantissime ispirazioni dalla religione buddista, hinduista, buddismo tibetano, e crea una versione maligna di una religione, appunto, diciamo buddista. Il film è uscito poi appunto a Taiwan, ha guadagnato circa 5,7 milioni di dollari rendendolo il film con il maggiore incasso nel 2022 a Taiwan, ed è diventato il film horror taiwanese con il maggiore incasso di tutti i tempi, perché probabilmente non hanno neanche una grande tradizione cinematografica e quindi in conseguenza neanche horror. Per questo dico che è comunque un caso importante, c'è un film che comunque riesce a piacere fuori dal territorio taiwanese, a livello mondiale, certo, aiutato dalla visibilità della tradizione, proprio il film è piaciuto a molti, quindi è andato abbastanza bene, è molto importante per il loro cinema, secondo me, è un grandissimo successo. Il film, come ha intuito Giorgio, si ispira palesemente, ma secondo me lo fa anche citandolo, secondo me lo cita, lo celebra, si ispira a Blair Witch Project, e questo mi fa molto piacere, perché io considero Blair Witch Project un grandissimo film horror, forse un po' troppo sottovalutato, un po' troppo considerato un film caso, perché c'erano tutte le leggende metropolitane sopra, ma in realtà, al di là di tutta appunto quest'aura di mistero, che veniva un po' aiutata dalla nascita di internet, che era molto giovane all'epoca internet, secondo me, al di là di tutto ciò, cinematograficamente è un grandissimo film, pensato molto bene, strutturato bene, che io apprezzo tantissimo. E il film, secondo me, non solo è figlio di, cioè parte da quello, ma lo celebra anche Blair Witch Project. Non solo, secondo me, a differenza di Blair Witch Project, loro prendono, diciamo sì, una struttura, ma in realtà raccontano una storia molto diversa da quella di Blair Witch, e anche molto più ricca in termini di sottostorie, approfondimento dei personaggi e di cultura taiwanese, quindi c'è tanta cultura taiwanese all'interno del film. Blair Witch è molto più light come contenuto. Non è un film che si ispira a Blair Witch Project solo perché fa un footage, cioè mette in scena una finta vera ripresa con la telecamera, cioè i personaggi stanno facendo una sorta di documentario, una sorta di cosa con la telecamera, e quindi sembra tutto più realissimo. Non è solo per questo che sembra Blair Witch Project, ma per tanti aspetti che non vi sto a dire per non spoilerare troppo. Però c'è una cosa interessante rispetto al tema del fan footage, perché questo regista fa qualcosa di geniale, secondo me. Esce dalle regole del fan footage, e lo fa con una grande sfrontatezza, e l'idea di vedere il cinefilo nerd rimbambito che si innervosisce nel vedere che il fan footage di questo film rompe delle regole, quindi diventa illogico, irreale in certi momenti, mi fa godere, perché io invece penso che ai fini del racconto, ai fini dell'obiettivo, si possano rompere le regole se si è capaci. Che cosa significa rompere le regole? Che lui, la protagonista gira spesso con una telecamera, e quindi noi vedremo spesso le riprese di questa protagonista, una madre, ma ci saranno anche telecamere di altre situazioni che riprenderanno ciò che vediamo, e ci saranno anche telecamere che non esistono, che riprenderanno comunque le scene, ma lo faranno con una sorta di stile fan footage, ma magari a telecamera fissa, quindi come se fossero telecamere appoggiate, che renderanno comunque la visione del film molto più, intanto più piacevole, perché i film fan footage sono molto limitati da questo canale unico. Il film fan footage ha un cazzo di occhio solo, fondamentalmente, è un occhio solo che ogni tanto si spegne, ogni tanto viene riacceso, ogni tanto si scarica, ogni tanto passa di mano, ogni tanto cade, e però è sempre solo quell'occhio lì. Lui ha voluto dare più respiro a questo film, lasciando comunque la sensazione di realismo che il fan footage dà, ma inserendo anche altre inquadrature che rendono il film più arioso, insomma più facile da fruire anche. Io l'ho trovato una scelta molto intelligente, soprattutto se tu, spettatore, non hai come obiettivo primario nella vita di non cagare il cazzo sulla logicità delle cose sempre e comunque. Quindi è un non rispettare le regole del fan footage assolutamente voluto, cioè se qualche idiota dirà che non è capace, ha sbagliato, perché vuol dire che è veramente stupido e non si rende conto di quello che sta vedendo. Mi è piaciuta molto questa cosa in cui la protagonista si rivolge al pubblico, perché lei è come se stesse facendo una sorta di documento video di ciò che le è capitato. Non vi dico cosa le è capitato, però c'è di mezzo una bambina, perché lei... Ragazzi, che figata, mi, padre, padre, mi assolva che ho peccato, padre Kain, mi assolva. Cosa possiamo fare? Io sono in modalità... Qua sono in modalità, non ho tutti i miei effetti. Allora, intanto un bel applauso padre Kain che mi ha fatto un ride. Grazie mille a tutti, benvenuti tutti gli amici, tutti i discepoli di padre Kain. Di cosa avete parlato di bello? Benvenuti sul canale. Buonasera, buonasera padre Kain, buonasera Valentina Reale. Buonasera, vediamo se riesco a scammare qualcuno. Vediamo se riesco... No, non voglio scammare nessuno. Ciao il Samma. Ciao Ornithologia in live. Ciao Toon Reign. Scusate se vi storpirò i nomi. Meglio i nomi che qualcos'altro. L'uomo che ride, benvenuto. Iza K. Satira religiosa. Come sempre. Grazie a tutti quelli che stanno mettendo il follow. Perdonatemi, sono un po' in modalità... Cioè non sono a casa mia, sono al mare. E quindi, insomma, ho più difficoltà a capire e vedere le cose. Benvenuti sul mio canale. Grazie a tutti che vi metteranno il follow. Questo è un canale che parla di cinema horror, ma... Ma un cazzo! Parla di cinema horror! In questo momento... Però è anche una sitcom in realtà. Cioè io potrei dire una qualsiasi cazzata e ridiamo. È molto divertente perché si possono mettere le risate su qualsiasi cosa. Stasera stiamo parlando di Incantation, che è un film horror fan footage, campione di incassi a Taiwan. È un film taiwanese che stava in non discreto successo in giro per il mondo ed eravamo nel mezzo della recensione. Tornando a Incantation, ci sono due cose interessanti. Anzi tre. No, due. L'ultimo e due. Uno è che inserisce, però lo fa in un modo anche un po' furbo, un po' così che non è tanto spiegato. Cioè aggiunge l'elemento della tripofobia. La tripofobia è, ve lo leggo così è e viene, ve lo dico giusto, è la paura dei buchi. Più nel dettaglio, chi soffre di questo disturbo è terrorizzato dalla visione di pattern ripetitivi costituiti da buchi fuori, ravvicinati e profondi, come quelli di un favo delle api o una spugna da bagno. Buchi, chiaramente, nel corpo umano, non nella carne, nel corpo. Nel film ci sono, però non è che sono giustificati in qualche maniera. Però devo dire che sono una cosa che si vede tantissimo nel fumetto giapponese, tipo quello di Giungito, è molto famosa, ci sono tantissime illustrazioni inquietanti, bellissime su questo tema qua. È la prima volta che lo vedo in un film, loro furbamente ce l'hanno ficcato, ma non è che c'entri molto, però ci sta. Quello che posso dire è che il film, secondo me, poteva essere ancora più bello se fossero stati un pochino più nascosti di più gli elementi soprannaturali. Perché in Blair Witch Project, per esempio, sappiamo che, e scusate lo spoiler se qualcuno non ha visto Blair Witch Project, sappiamo che noi non vedremo mai un cazzo ed è questo che ci terrorizza. Ci terrorizza l'immaginarci che cazzo succede, di vedere la scena finale e dire minchia, chissà che cazzo. È tutto lasciato alla nostra immaginazione ed è lì che ci cagliamo sotto. Se questo film avesse un pochino più seguito quella strada lì, invece che ogni tanto qualcosa la fa vedere, e secondo me toppa in questo, perché poteva essere veramente ancora più inquietante. Però comunque fa vedere poco, fa vedere poco. Non è appunto un film alla The Conjuring. Qua adesso i congiuriani magari se ne andranno perché pensano ah, questo capisce un cazzo perché non gli piace The Conjuring. No, The Conjuring non mi piace. Non mi piace perché The Conjuring ha il problema, al di là della bella fotografia, che poi è comunque una fotografia estremamente commerciale, al di là degli attori bravi, che però sono comunque attori estremamente commerciali. è un film che mostra tantissimo, è molto pacchiano, perché comunque la suora col quadro davanti, ragazzi, è una pacchianata incredibile. I film che fanno veramente paura sono quelli che mostrano poco, che tengono tutto nascosto e che lasciano a noi il compito di immaginarci l'orrore, perché solo noi sappiamo immaginare qualcosa che fa veramente paura. Se io ti dico, immagina che dietro quella porta c'è la cosa più spaventosa che tu abbia mai visto, è chiaro che ognuno di noi la immaginerà in modo diverso e nel modo più spaventoso, perché lo è per noi. Quindi bisogna mostrare poco nel cinema se si vuole spaventare. The Conjuring non lo fa. Un'altra cosa che non fa The Conjuring e questo film invece fa è inserire elementi psicologici ed emotivi forti, coinvolgenti e toccanti. In questo film un gruppo di acchiappafantasmi, sapete quelli youtuber che vanno a cercare nei posti abbandonati i fantasmi? Ecco, scoprono che c'è una famiglia religiosa che fa dei riti e che hanno un tunnel misterioso dove accadono cose. Vogliono andarlo a riprendere, lo fanno, succederà un casino. La ragazza, superstite, incinta, abbandonerà la figlia in un centro per bambini abbandonati e scapperà via. Cosa succederà? Dopo qualche anno, dopo sette anni, la madre tornerà per riaverla figlia, dopo essersi curata, dopo aver superato le sue paure, dopo quello che è accaduto, non si sa che cosa sia accaduto. E perché dico che c'è della sostanza, c'è dell'emotività? Poi leggo i commenti, perdonatemi, finisco il concetto. Perché questo film racconta in realtà molto metaforicamente metaforicamente la paura di diventare genitori. Perché è spaventoso diventare genitori in realtà, perché tutto quello che capita a tuo figlio ti sembra di non avere il potere. Cioè, non so come dire, se voi vi fate male, vi rompete una gamba, vi fa male, avete controllo su questo, perché potete decidere di tenere duro, stringere i denti, o strillare, o piangere. Sapete che comunque siete voi che state decidendo che cosa fare. Nel momento in cui accade a una persona che è in simbiosi con voi, che è amate alla follia come un figlio, sentite una forte impotenza nei suoi confronti, perché non riuscite a darvi pace per la sua paura, per il suo dolore, per la sua sofferenza. E quindi questo è un film che racconta questo, perché ci saranno anche questioni di questo tipo. Quindi è una grande metafora della paura di diventare genitori, lei è anche una madre sola, quindi è una grande metafora, anche, il fatto anche che lei l'abbia abbandonata è una grande metafora della depressione postparto, che è un problema su cui c'è un tabù enorme in Italia, non se ne parla mai, ma tantissime donne hanno la depressione postparto, che può causare tantissimi problemi alle donne, ai figli, alle famiglie. quindi è un film veramente che ha dentro tantissima roba psicologica, emotiva, raccontata attraverso l'horror. L'horror è un grandissimo canale per raccontare storie emotive importanti. Per questo, al di là di dare un giudizio se il film è bello o brutto, è un film interessante, è un film che sta piacendo fuori da Taiwan, che è stato campione di incassi a Taiwan, quindi è un ottimo segnale per il cinema asiatico di quelle zone lì, perché c'è il cinema coreano, è già esploso, il cinema giapponese è sempre stato comunque, insomma, ha già avuto i suoi autori importanti, quindi per me Incantation è un'ottima visione, poi chiaramente bisogna entrare nell'ottica che il cinema non va giudicato, va capito, bisogna prendere il meglio, tante persone avranno visto questo film e non avranno minimamente fatto una riflessione su appunto la questione genitoriale, la questione psicologica di questo film. Poi c'è anche tutto il tema molto bello del condizionamento mentale, perché all'inizio del film abbiamo fatto vedere, lo faccio rivedere solo un secondo, solo un secondo, abbiamo fatto vedere che spiega come un'immagine noi possiamo, che ci sembra giri da una parte, noi possiamo condizionarci e farla girare dalla parte opposta o il treno possiamo fargli cambiare direzione, se lo vediamo andare da una parte possiamo farlo andare dall'altra questo in relazione col tema della suggestione, cioè cade una sedia qualcuno potrebbe dire che è stato un fantasma, qualcuno potrebbe dire che è stato un segno divino di Dio, qualcun altro potrebbe dire che è stato il vento, eccetera eccetera, perché siamo noi che decidiamo che interpretazione dare a ciò che vediamo, che sentiamo che tocchiamo che annusiamo abbiamo tutta una serie di ricettori che ci condizionano e anche il nostro cervello la nostra esperienza ci condiziona nel decidere che cosa stiamo vedendo diciamo che questo qua è un po' tutto quello che avevo da dire su questo film che secondo me è un film carino interessante che all'inizio mi ha anche un po' fatto caccare sotto però ragazzi bisogna entrare nel mood che i film horror soprattutto vanno tutti i film perdonatemi vanno visti con il telefonino lontano con le notifiche spente magari con un po' di luce abbassata dovete farvi coinvolgere dallo schermo se no vi perdete i pezzi è ovvio che poi non vi piacciono non li capite non capite la trama e questo è quanto per Incantation consigliato grazie Vito grazie super applausi grazie mille per il supporto grazie a tutti